Potevo fare un video, ma vi ho detto che... Allora, vieni! Sì, sì, fra un di stai, eh? Ah, te la guardo la pancia io! Poi lo chiamo? Come si? A porsi! Ma a te, ma a te? Dovrezcare del treno! A forza Fuck! A forza Fuck! A forza Fuck! Nobriare! Allora, nobriare! Attraffment offro e attraffage! Loh Sub 제목are! Allora, nobriare! Nobriare! Potevo! Nobriare! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.